Canta Nada Malanima! Tieni su un abbraccio! Nada! Nada! Mi ha chiamato così perché pensavo mi avrebbe portato fortuna. Vogliono farmi un'audizione. Non mi dè che l'hanno presa! Avevi ragione te! Non lo so se ci vuole un da maestra. Perché? È tutta la vita che faccio quello che vuoi tu, per non vederti sta male! Dal Salone delle Feste del Casino Municipale di Saremo... Non sei solo un oggetto nelle loro mani. Vuoi diventare qualcosa di diverso. La bambina che non voleva cantare. Questa sera a 21 e 25. Rai 1.